Scappano dalla guerra in Ucraina per mettere in salvo le proprie famiglie e molti hanno già avarcato i nostri confini. Per questo motivo l'Emilia Romagna si è detta pronta a garantire l'accoglienza dei profughi. Da un lato attraverso la rete nazionale dei centri di accoglienza straordinaria e del sistema di accoglienza integrazione che il governo sta attivando nei territori, gestita dalle prefetture, 8.000 posti in totale d'intesa accoglienti locali. Dall'altro garantendo tutti i posti che dovessero rendersi necessari attraverso un proprio piano definito dall'Agenzia regionale di protezione civile. La Giunta regionale ha deciso anche di avviare una raccolta fondi rivolta ai cittadini dell'Emilia Romagna, chiunque potrà versare indicando con chiarezza la causale emergenza ucraina. Il conto corrente è intestato all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia Romagna e lo stesso già utilizzato in passato per fronteggiare altre emergenze. Al momento sono circa 1.500 le persone ucraine arrivate in Italia, diverse decine anche nel territorio piacentino. E anche la nostra provincia si è attivata con diverse iniziative istituzionali e private. Tra gli altri è partita anche la raccolta della Banca di Piacenza, che ha attivato un conto corrente aprendo la sottoscrizione con un proprio versamento. Chi desidera contribuire può farlo con un versamento che potrà essere effettuato rivolgendosi ad ogni sportello dell'istituto bancario senza commissioni sull'operazione.